cari amici di youtube benvenuti in questo nuovo video oggi sono in compagnia della mia lavatrice samsung che ho temporaneamente messo in pausa prima di cominciare il video oggi vi farò vedere l'ultimo risciacquo con additivo ammorbidente di questo carico lavato precedentemente sul programma sintetici dunque adesso prepariamo l'ammorbidente ok questo sound era che l'oblò si è diseccitato ma adesso lo facciamo rieccitare e così facciamo partire l'ultimo risciacquo un'abbiamo oggi la visuale è da vicino l'ho messa abbastanza vicino dunque prima ho iniziato a fare una live per chi stava guardando la live adesso poi lo sentirà in questo video purtroppo non so perché ma si è interrotta infatti la stavo guardando dal pc e non riuscivo più a vedere nulla ho detto ma che strano sono andato a vedere il telefono infatti si era staccata la live si era chiusa youtube e non so perché infatti ho detto boh alla fine ho detto boh ne lasciamo perdere poi alla fine ho detto voglio rifare almeno un video dell'ultimo risciacquo normalmente senza live non so perché 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 è l'ultimo risciacquo è partito che non so perché 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 morally e 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 adesso ci sarà la fase di srottolamento dei panni fase di srottolamento dei panni e sono le cerniere delle maglie che sbattono contro la l'oblo ovviamente a volte le cerniere sono anche i lacci e 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 terminato cari amici vi ringrazio per la visione di questo video e scusate se la diretta è stata interrotta ma vabbè di mi mi sono rifatto con questo video vi ringrazio per la visione di questo video e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti e 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